per la verità è l'impasto la moglie fermo la sega nooo sei chinato perché ti sei chinato sei chinati ora gli metto un palo uc è un casino ha formato tutto un palo uc ma guarda gli aveva preso il passaggio ma guarda gli aveva preso il passaggio ma guarda gli aveva preso il passaggio c'è anche la zona no no ma così bio stavo come se niente aspetta perché non bisogna essere provare durante il basso ma che sei malattia bravo bravo bravo